Senti camera mia Ce l'hai un po' Dino? Ciao Ce l'hai un po' Dino? Hi Ciao panettino Come stai? Sono io Come la mamma? E' fichissimo Ma io ho visto la clip del... Grazie Menta no? Ho visto la clip che ho sparato in testa E' super divertente E' la casa di uno youtuber Loro sono i ragazzi che ci vedono Sono i ragazzi che parlano Sono i ragazzi che parlano e che ci vedono Io sono di solito seduto qua Però ora che ci siamo in tanti Quella è la mia bava Stavo già pensando a qualcosa altro Perché dormo sul divano perché sta troppo calmo La loriccia sul divano diventa crosta Questo invece è molto morbido Lo ben dito al tatto E' tutta barra Tutta barra Vuoto della casa? E chi l'hai vista? E' una bellissima Ah è un libro? Grazie L'hai pulita? Grazie Ma hai fatto un tour della casa? Questa è com'è pulita questa casa? Omi perché con tutti questi soldi non compri una nuova stranica Ma ti ricordo del potere che hai sulla gente? Bella Topolona la tipa aggiungerei Bella Topolona Grazie mille Canta Bella Topolona Bella Bella non ti lascio sola Bella Topolona Sì la carta è stata Allora è bella Topolona Sì la carta è andata Bene bene Ah ok Buonasera Nikita Benvenuta nella favela più famosa del web Le sconsiglio di sedersi sul divano Che è pieno di malattie venere No malattie venere no Ma perché sta così? Sta messa così dietro Perché è lo schermo qua sostituito Faccio sempre delle piccole gag che ti lanci E lo tieni sempre qua a portata di mano? No Mi stai facendo E che stai facendo? Perché c'è un metro rotto lì? Vi aspettavamo con amore Minchia Guarda qua Ah Io ho fatto io Che che è? Eh mi ha fatto simonare come un succhiotto Non è possibile Quindi stavano riabbracciati Ma perché inizia voglio venire simonare Perché non è contento Perché non sia contento Comunque allora io Ho contato questa cosa qua Gigi Ciao 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 Si Parlo di tutto il tempo Quando guarda lui stacca Sono una persona, una persona, ciao Sono un umano Sono un umano Che te ti hanno mai detto che somiglia a Nascano, non ti offendere però? Grazie caranera, sgrazie edizione Allora, ma non è mia, è di Keru, che l'ha presa lui, l'ha comprata, la voglio bere Ma è con gelata Sì, l'ho messa in freezer È un ghiacciolo all'aria Però chi è che si beve, scusa Michele, non si ricorda l'aria Ma chi è che si beve sopra i 19 anni? Io? A 16 anni, sono 17 Ma chi è che sarà? Ma per far schifo Beh, la vodka alla fragole è tanto buona La berrei ancora Meglio la vodka alla menta, scusami No, quello sì, ok O la vodka alla menta Baci, baci, baci Sì, grazie Michele ti posso sposare, ti vogliono sposare, grazie pesci Se escono delle cose Sono la gente Sì, lo ho già scurato Ah, lo sento Se escono audio, da senza vulgari Che è un audio Comunque sono delle persone che si toccano Non escludo Non escludo che sono persone che si toccano Grazie Andrea Un'ora verso questo addetto a L Circo Che solitamente svolge le sue maratone autoerotiche sul divano Un'ora ho fatto sesso Questo divano No, com'è Allora, prendo dei bicchieri Chi è che vuole bere questa? No, sono un attimo scongelata quella Sì, va Ah, si sta scongelata sola Ok, tanto è caldo Mi trovate forte a scongelare fra due minuti? Sì, scongelata Non voglio, non la voglio nemmeno in mano Enk, puoi fare un'introduzione a cos'è la live? Il mondo delle live Ah, ok Il mondo delle live Spiegando Ah, poi c'è Enk Enk non è una persona reale È un Chi? Enk è un software È un software pro di intelligenza artificiale È tipo Alexa, però per le live Ciao, sono Enk Ciao Enk Enk, puoi spiegare gentilmente come funzionano le live? Ma Enk è tutto strano È nuovo Hai visto me Black Mirror? Stasera sarà Grazie Grazie Bukkara Nekita Sembri la fidanzata di Ketama Senza offese a non offenderti Però Sembri la fidanzata di Ketama Combattiamo fra combattiamo in amicizia No, questo è bello Questo è un crossover Enk Ripeto Enk Puoi spiegare cosa sono le live? Un facile meccanismo per fare soldi Facile Sono facile anche Ma io ho visto Più o meno Io avevo accennato cos'era Quince Non avevo visto niente Sì, allora, sì, ho visto delle live che facevano qua spontanea Ah, i pensi, i vedevi? O il massevo? Non è che vedevo Ho visto cosa facevano Se uscivo Però al contempo Più è bella figa Ma che figa sei? Guarda che il cappellino da pescatore lo puoi togliere Va bene che è una favela Ma mica piove dentro in sta baracca Sembra che veramente è qua Ma chi è? Senta, faccio una foto Adesso fisco Ma se sono nove Oh KS 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 Oh 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 Che schifo La foto che ha la pesca getta quella merda Carissima Non ti accitano i colpazzi di panetti SKSKZKZKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKS br 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 br? no c'è 1000GB un tito? ma ti rendi conto? che o mi autor guadagna nocenta K al mese e vivile ancora nelle favela e stai zitta SKSKS FIGA FIGA Cosa hai? c'è un disturgo fra intelligence artificiale grazie Peppo Il tavolo è storto Perché Perché è stato cercato di mettere dritto Ma non si Hai visto niente Nikita Sfiora Greger È uno dei nostri Posso fare un props A Rocco Brazzi per la live di oggi Sulla cucina? L'ho seguita quasi tutta Siccome arrivo Sempre in stream Non ho tempo per O O O S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K Greg ci calca ogni volta che Crede realmente che è lì Nikita Nikita Fai un sorriso Fai un sorriso Fai un sorriso Fai un sorriso in cam, 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 se pensi che questa favela sia la peggior casa che tu abbia mai visto e se vorresti scappare in questo momento, per piacere prima di uscire da qualcosa da mangiare alle bambine chiuse nell'armadio, doppia vola fila. Oh grazie lo zicone. Altre sono per te. Ma non è vero. Uscite a Instagram della tipa che noi modificati ci dobbiamo segare. Ma non è vero, Santiago vieni qui. Ah, Nikita ha fatto X on the beach. Allora, giù, giù. Ah, tra poco mangeremo del sushi. Mettiamo un tavolo. Anche io? Ti facciamo sdraiare. Ma in un posto, non puoi, va bene, infatti, non è vero. No, ma che tu? Ah. Come hai fatto un po' di sushi? No, no, non ho mai fatto un sushi. Nikita, fai un adab, fai un adab, fai un adab, se ho spiegato una gangbang. Ma questa è sbagliata. E anche, puoi metterti la voce da donna, per favore? Cin cin. Tanto tra poco usciamo, Bettina. A te l'hai già finito. Cin cin. Cin cin. Cheers. A questa estate, allora... Nel motto. Eh, volevo dire, spoiler, Diego farà il tentatore in Tentation Island. Posso dirlo? Eh, vabbè, l'hai detto. Vabbè, era una sorpresa del motto. Vabbè, almeno si è fatto... Non volevo che mamma lo sapeva indire. Non credo che mamma guardi. Vabbè, il motto? Il motto è come... Grazie, Perry. Viva, ma figlia. Allora, il motto è... Come disse Jung, alla vostra. Alla vostra. Alla vostra. Vabbè, è un altro brindisi. Salute. Ciu ciu. Grazie, Ang. Grazie, Ang. Ragazza, Ang. Vabbè, Ang. Eh, perché sennò è... Perché c'abbiamo una che è un'intelligenza artificiale e l'altra che sono le voci delle donazioni, ma le voci a volte coincidono, per cui ci confondiamo. Sì, sì, sì. Quindi adesso che sappiamo che... Grazie, piacere a nessuno. Ma l'impostazione è questa dell'intelligenza artificiale o già nel canale? No, è tutto il dato. Anche vedi che c'è... Uh, questa live sembra por dublive. Il motto di stasera è isci il mimmi scema di merda. Ma la piattaforma è la piattaforma. Cosa? Cioè? Io e Giorgio facciamo BNLBNLBNLBNLBNLBNLBNL È la piattaforma di Amazon. Twitch? È la Twitch di Amazon. Ok. Alexa cos'è? Però noi abbiamo questa stanza di regia. Sì. Vedi che ci sono gli audio, tutte le scene, la chat e possiamo mettere delle cose aggiuntive come... cioè se tu vuoi streamare puoi fare le tue cose ma non esce niente di questo io ho un'altra regia in Sicilia che è RISE esatto che ogni tanto mette... guarda RISE fai comparire qualcosa grazie Pietro Smusi fai comparire qualcosa tipo questo vedi che c'è questo logo fai comparire qualcosa per favore RISE e sì quella regia c'è un po' di ritardo audio video per colpa di internet e magari RISE non sta al computer scommetto che vuoi aprirti un canale anche per istruzioni classicone oh un altro fantasmino questo è più contento bello ha le braccia alzate tutte e due queste sono le immagini di internet poi abbiamo la realtà virtuale è anche incazzato? no no è l'ultimo fantasma era verissimo comunque sì sì però il problema è che fa caldissimo in canale mia non so se mi sei d'accordo grazie è deficiente ma basta parlare di noi è il momento di parlare di voi grazie sì bella a tutti KS 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 KSKS Nekipa 6 splendida occhio però ad Andrea che scappa sempre in bagno a farsi dei panini goliardi dici oh? 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 e li ha altri complimenti i panini sono le serie la masturbazione maschile panini, li chiamano panino e non si può dire serie? si, ma per non farlo il pronunico per non essere volgari si, masturbazioni maschili per non essere volgari e noi odiamo la volgarità su Twitch ci sono parole e cose che non si possono fare tipo... no, tipo no, non si possono fare e non si possono dire cosa facciamo tipo spogliarsi non ci si può mettere a petto neanche gli uomini non puoi streamare in video che tempo fa a Torbella Monaca ti metti in costume e dici come ripstop? bannarlo? no, ti dicono stop e ti licenziano per uno o tre giorni poi non vuoi di cose razziste non vuoi di cose omofode a Torbella Monaca è una merda? sicuramente chiaro grazie vuoi chiedere qualcosa di anche? anche qualcosa di difficilissimo o di strano ok oh strano anche chiedere pareri su come sei oggi tipo come cosa pensa di te qual è l'animale di essere maschile tanto questo trago che ha chiesto che rimane incinto? eh, cosa vuol dire? vecchina non ho capito bene puoi avvicinarti ma non devi dirlo ma non è giusto ma non è giusto ma non certo che lo sai ma perché tu cosa bevi? ma l'ha detto l'altra volta l'ho risposto l'altra volta l'indovinello ok scusate non avevo capito il giorno anche hai dei sentimenti vediamo cosa risponde e quella è la gente che ci guarda siamo 6500 persone ok è praticamente il cambretti night è praticamente il cambretti night sono quelli che mi hai dato tu bellissimo porcone grande eh cosa ne pensi di siri? spesso fanno anche queste domande classiche oh vedi tante mochi ah sto dicendo siri zocco eh no non vuoi non vuoi non vuoi mamma mia musica di atmosfera? musica di atmosfera mi piace la foto la doppia a te ma aspetta fagatevi tu quelli eravamo noi ieri noi ieri eravamo qua su questa realtà virtuale mi pare un boccaciccariella un doppio ciccariella eh ho capito non c'è una realtà virtuale? non c'è una realtà virtuale? cioè tu devi avere questa cosa in testa vuoi provarla? ma è un gioco? è una realtà virtuale? si possiamo provare la realtà virtuale cioè ma vedi qualcosa? vuoi giocare? aspetta eh ti faccio vedere la realtà virtuale è divertente io l'ho giocato prima a casa ce l'hai? ce l'hai? ce l'hai? ce l'hai? ce l'hai? ce l'hai? l'intelligenza artificiale è troppo intelligente è troppo intelligente è un po' di intelligenza e 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 quindi niente è troppo complicato da spiegarte facciamo così finiamoci è questa l'intelligenza artificiale però vi vedo voi ci vedi? si ah ok non c'è lo spazio area di gioco non trovata eh c'è un problema niente dobbiamo settarlo perché credo di boh non so perché no come si grazie se l'hai? vuoi avere il tuo fascino diego? o? sk 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 faccina che vuole penetrare la fanciulla con il vr un po' cringe allora poi hai il potere grazie random di morire una sola volta cioè a quel punto non puoi morire una volta il 20 febbraio 1994 è un rapper italiano punto precedentemente noto come incubo e un avevo i componenti del guai si è costretta a spiegare che la ragazza si è fatta la coda tattica Diego la ragazza, Diego la ragazza, Diego la ragazza, Diego la ragazza, Diego la ragazza oh, Jimmy, oh, no, va a fa culo, oppure lei, e poi tu, 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 quando hai i capelli bagnati e vai in macchina dici, oh no, l'aria condizionata no, oh no, l'aria no, Diego ogni volta chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, ora sei tu che sei una tussi, oh no, l'aria, l'aria condizionata è una cosa, l'aria condizionata è un'altra, no, ma anche i ti obbligano a morire, proprio i rinasci, cosa fai per morire? come scelgo di morire? si, puoi morire una voce, nel senso hai due vite e sei obbligata a spiegarne una e vorrei buttarmi nel vuoto ma che triste, ma che pazzia, ma tanto muoio ma io mi farei una pera di eroina e muoio il dovere d'oro no, allora, se vuoi morire in questa vita ti tolsa una seringa d'aria oh, no, 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 non avete capito lo stesso, si, ma sei morti d'atroci, ma non è vero? voglio che mi spegliano vivo e mori di dolore si, io voglio morire ad una spada e al nocchio ah, aspetta, no, ok, ti ho quella sensazione di... tu hai la possibilità di fare qualcosa, tu, allora ci sono quelle cose che tu non puoi fare sono cose belle però muori ma tu mi hai detto che rinasco appunto appunto però loro dicono per ederoina un'entita porco dio devi recensire l'ultima scopata che hai fatto con Nazca al Diego Dio cazzo secondo me il voto stasera indicatore ordinale maschile o o o o Diego dai era ora dai e te pare che te fai forse la tipa da Tarzanco quelle cavione o o parlando di queste serie panetti ti prego copri la ragazza e resta in camp per 10 secondi almeno posso masturbarmi anche stasera tranquillo tu sei troppo per me e 10 secondi mi basta ciao mi è solo due minuti oh la tipa è figa un po' oggettificante questo ciao mi ciao Diego ti amo chi è che vuole un po' di vino io non annullare la richiesta 188 o la spedizione di cocaina no 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 cancella 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 annulla annulla una no annulla tutto annulla tutto no quella eh va bene che gaffe annulla nulla vabbè direi che sta succedendo è un po' di vino annullata no eh no va bene anche l'altra ormai è anche non chiamare nessuno no 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 e non c'è niente Michitta stai attenta che se provi ad usare la realtà virtuale omiti fai le foto sotto la gossina Prrprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr Sì, a presente, loro scrivono sulla tastiera e poi c'è una voce che legge, per cui se loro leggono PR, cioè se loro scrivono PR, P-E-D-R, legge PR, e poi possono scrivere tutte le parole senza senso. Ecco, scusa, hai detto qualcosa? Ecco. Ci sono dei rumori. Aspetta, ma perché non facciamo mettere anche la voce quella normale dell'uomo, tipo che parla normale? Così che non c'è troppa... Collegamento con regia, Hank, per favore. Enrico, mi senti? Ciao, sono Hank, il tuo assistente vocale. Ecco Hank. Ciao Hank, cantaci una canzone, Hank. con chitarra, con cosa voglio altro? con chitarra, si una canzone con la chitarra che anche te canta subito canzone con chitarra? si una canzone però, una che è abbastanza conosciuta caricamento chitarra, liber via non trovata, canterò a cappella grazie giuice ward vabbè quindi aspetta via riuscire, ti volevo chiedere una cosa, com'è stata Tentation Ida? io non ho visto niente però ho visto che tutti i youtuber c'erano le reaction panetti simone simone panetti, pelatone ho una sola cosa da dirti free ariel ariel che cazzo starà facendo secondo te in questo momento a parte a fare lo snitcho? eh? devo chiamarlo? free ariel? si, si, vabbè com'è? oh? 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 ma vedo bene o c'è qualcuno vicino che ci sta portando via la tipa nikita chiedi a domi di farti tirare fuori dal frenzer i suoi piselli scu scu sk 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 non c'è stagione? no, grazie per la misura ah, è settembre grazie caro grazie caro l'ultimo l'hai fatto? è solo le bici sì settembre cosa? in settembre abbiamo registrato io pure non c'erano le bici da casa quindi non so, ne so, a zero e quando è stata uscita? a marzo ah, quindi sei fresca di uscita? cioè, d'ultimo le registrazioni sono uscita a marzo abbiamo fatto le reaction, i pants, tutti gli altri abbiamo fatto tantissime orecchie ci hanno detto, guardiamole ora ci hanno detto vai, non vedevo niente, non potevo guardare niente per questo ti dicevo, devo usare il vpe ah, per internet, si, no il vpn ah, quello che hai usato ah, il vpn, il proxy ok, per connettermi perché mi vuole drugghe grazie, just through springs ah, quindi era questa stasione? sì ah, ok settembre cioè, no, quella che è uscita in televisione è l'ultima lezione di vizio, dico sì e ti riconosco le strada? sì e i pants come lo vedi? madre perché dovrei appoggiare questo video? no, ma non lo so no, non lo scusco di tanto bene quindi non posso dire panetti, 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 pane se sei un vero tarantlello balli la tarantella a una tabella perché non è uno di me e che succedo ma all'altro inizio lo so non è è assolutamente mentre una ragazza parla vuoltre non è basta, grazie ok la ragazza quando faceva hanno intervistato il mio ex no? tu sei andata come ex di qualcuno? io ho messo quando ho fatto il casting che non volevo dire ti ho beccato anche qui Ponetti ok pensavi di poter sfuggire alle mie donazioni merduose? no no insomma guardatevi oh mi sembra Lupin, Nikita e Margot Diego e Gamon e Simone mi dispiace ma non puoi essere Gigan perchè non so se lo sai ma sei pelato insomma al masimo puoi fare tens in PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR oh mi non mi fai paura ti propongo 1v1 bianca sul tavolo il primo che sviene pulisce la camera di Lorenzo con la lingua oh mio io vorrei capirti com'è Diagoman oh mi bella mossa quella di mettere la codeina nella vodka tra poco potrete divertirvi a turno SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKS Scusate cerco Panetti Simone per accordarmi sul prezzo del Tmax 750 euro aspetto il pagamento grazie del tempo ragazzi no non vuoi il caso di Max non l'ho mai voluto Nikita Pelizon prego chat vuoi provare il Tmax? ah Nikita Pelizon? ah sei bene? no niente bene di dove? ciao Nikita cosa si prova a stare in quella merda di casa ricoperta dalla spazzatura e a bere vino nel bicchiere di plastica come un barbone? eh, lo sai che Omi usa la maionese come lubrificante anale? bella mi Kitor? certo che vedere una competizione tra Panetti masca e Omi che non ti imbaca come vedere Godzilla e Terminator contro Topolino No, non sono di stare in grado. E' Diego che... Allora... C'è un'altra? Io sono di grado. Io sono di stare in grado. E vado ogni stato a grado. Facete vedere qualsiasi stato. Non è quelli dei momenti da unicorno. Che sentite? Facciamo un uomo di giro. Grazie, Marquino. Omi, non fare ubriacare le donzella o... O? Omi, fai fare un giro goliardico della favela. Sani, chissà, e vediamo cosa ne pensa. Omi, sei il migliore. Omi, come? No, no. Ah, qualcuno ha messo la musica. Di Trieste non sei neanche fiulana, sei slava. No, slava no, ragazzi. Proprio per niente, sono solo una sfida in eslovena. Vici, vaci, vici. C'è vaci, c'è vaci, c'è vaci. C'è vaci, c'è. Io e mia mamma me le cucine c'è vaci, c'è. A me che è giusti. Non è veneto. No, però è... No, è tedesco o stridata. Beh, io quando sono stato al confine... Sei mai stato al Perla? No. In casinà mi sono solo caldata tanto. No, siamo stati... Nicata fa tanto caldo e io ti consiglio di togliere le scarpette e farci vedere i piedini a favore di camera. Un mago frutturfatore. Ah, ecco, ok. Quelli che fanno le cose e non li studiati più. Ah, io non so cosa ho bevuto. Sì, ma mai questo... Che cazzo è? Era il tuo. No, io ero praticamente a una festa... Al Perla? Prima di partire, no, a gennaio, tipo dicembre, dove c'era questo tizio che andava al telefono... No, scusami, andava ai social. E per esempio ha iniziato a fare queste... In Ferrari era? No, tu so. Sì, sì, poi devo... A prescindere... Lui fa solo gli eventi con i principi e queste cose qua, no? Io non sto con i miei eventi più coste. E... E vedete cosa è successo? Ha fatto delle cose assurde. Ma è quanto magie? Sì? Era 35enne, tipo, più grande di noi. Un bello orologio. Qua è la... Non lo so, guarda l'orologio. Dio, sono 40 anni. Qua è l'orologio degli uomini. Conversazione su Silvio Berlusconi rilevata. No, 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 non era Silvio, non era Silvio. Non era Pier. Quel Silvio è un politico, non c'è troppo. No, ma quel periodo di lista va... Ma chi ha detto Berlusconi? Ciac! Ma è la cosa virtuale, l'intelligenza artificiale. Ah, ok. Comunque lui è il principe di grado. Ligrado? Stalingrado? No, no, nessun... Stalingrado, nessun principe. Ligrado? Io sono romano di nove generazioni. Di nove? È la gran madonna. Non hai altre origini? Gran madonna? No, il media madonna. Tu che origine hai? Tante. Le origini Iran e... Dai, che figata! E basta. E italiane. Itano-iraniano. Italo-iraniano. Salute i miei amici iraniani. No, quella è l'albania. Senti. Tu? Origini? Italiani, penso. Marchigiani. 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 Ok. Romani. Però il taglio degli occhi è normale. Madagascari, sanzo. Madagascari. Tu sei madagascari. 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 No, fai... Vabbè. Andrea, la tua ricerca su Nikita porno, tette, è terminata. Scarico sull'hard disk? Sì. No. Ma non lo scarico, non c'è niente. Non scaricare. Non scaricare. Non scaricare. Da un LOD annullato. Sono cinque. Grazie. E Enk, puoi attivare la stream per l'host, per favore? Procedo ad accensione del computer. Allora, ragazzi, noi usciamo di casa. Io siccome devo mettermi il telefono, ci sarà cinque minuti, uno sta Enk e poi usciremo di casa. Per cui, appena finirà la stream, osterò Enk, sarete cinque minuti con Enk, appena noi riusciamo a prendere il monopattino, riattiverò la stream e... Questo è un pulire i soldi, praticamente. Perchè? Stai pulendo i viewer. È un ricerca, è proprio un... Andarvi da una parte all'altra. Sì, sì, è come spostare i soldi... E poi ti arriva come scopito. Però, con se ne vanno non se ne vanno. È giusto. Cioè, se ne andranno un 2000, però non tutti. Diego, vai, finisci. Fa la goccia, andiamo. Sono simone. Cosa? Eh, perché? Ah, sì, 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 sì. Cos'hai lasciato? Non vogliamo dirlo in diretta ancora. Ah, ok. Ok. Mi metti per... Diego, passi un secondo se ti fa. Mi metto... Vado a farvi più, mi metto di... Ok, vedi? Diego, vai tu lì. Vai tu lì. Enk, riattiva il download. Oh, qui c'è il ventilatore. Ciao ragazzi, come va? Non mi offendo. Michele, è buono il vino? Si, è buono. Mi sta piacendo? Allora, ci andremo a fare delle bevute in giro. Allora andiamo. Sarirai, regalo al fuorico. Come mi avevi detto, fammi uno squillo quando accendete con la tipa occhio alla polizia. Ok. Quindi c'è la polizia? Diego, quanto... Lo reago, eh, eh, veloce, tutto veloce, amore mio. Come si chiama Michita su Instagram? Come ti chiami Michita su Instagram? Uragano Michita. Uragano Michita. Abbastanza. Match effettuato. Le due persone nell'inquadratura hanno alta possibilità di godimento in caso di chiavare. Ecco, ecco, smetti di essere. Scusa, ma com'è possibile che Scurrile sia un'intelligenza artificiale? Eh, no, perché lei... Si ha abito a quello che ho fatto di scioglie. Ah, lei aumenta l'intelligenza più parliate? In più, beh. Parliamo di queste cose. Ma serio? Guarda che hai fatto. Guarda che cazzo hai fatto. Tutto rosso, mi sono emozionato. Guarda che cazzo hai fatto. Guarda la faccia del... Nel piccio con i cani. Questo qua giocava... Sono adesso... Guarda se mi si vede da... Dai, mi sono... No, non si vede. No. Perché se no mi fa... Sì, si vede. Un pochino. No, ma si è vendilato da te. Eh, dai, anche, dici queste cose, come sono tutto emozionato su tutto rosso. Anche Michita, guarda, mettiti di avanti. Non fare così, sei un bel ragazzo. E il panetti che conosciamo quando arriverà il momento della canzone purtroppo dettata. Sai cosa dovrai fare con il piccolo omi e ballo, la polca, la danza dell'anno. Posso baciare in bocca a mio fratello, non sono fro, amore amo davvero il bambino. Sei il vero Morpheus bianco o no? Movite pelato. Andiamo? No, grazie. Siamo per andare? Andiamo. Dammi. Di chi è questo telefono? No, è un telefono. C'è cascata. Ha trovato il telefono me, è quello rotto. La rida è sempre. La rida. E dai. Si va. E ridi, dai, ridi. E sto a ridere. Lo sai che ho rubato una scarpa alla DarkPoloGang? Che burtello? E c'è solo una scarpa. Come direi che hai rubato una scarpa alla DarkPoloGang? Ho detto Mike. Facciamo così, pronto la rida. E io prenderei una scarpa che fa molto caldo qua dentro. E ne sono andato. Non è una, è un paio. Non ce n'è altre. Alla DarkPoloGang poi, cazzo non è teca. Che carino il tuo cappellino. Andiamo a pesca? Non ti piace. No, non ti spezzate. Andiamo a pesca? Sì. Ti sei a pescare? Sì. Andiamo a pescare le salbe? Un paio, una scarpa. Qualche pulire tu dà? E si sa... Aio! Ah, la striscia? Eh? La striscia notizia. No, è stato... Aio! Grazie, mamma. Che gli diceva? Aio, la striscia notizia. Aio, Peppe Bello. Era quello salvo. Aio, aio! Lei era il dottor Ventosa. Capitano. Non era salvo. Spaccava il Capitano Ventosa. Aio, da Cristian Cocco. Ma tu ti immagini per le persone... Quello a Pede, quello a Pede che faceva. No, va bene, aio! Fra, ti ricordi il Capitano Ventosa e le immagini? Le persone a tavola dicono... Adesso facciamo un personaggio con la Ventosa in testa. Persone di 50 anni. Sì, sì, è proprio idea geniale, perfetta. E vai. L'Italia contenta. Ma quanto si è fatto il Moicano a uno? Prima. E tu faccio... Non vediamo tanto, eh? Senti, io non posso andare in gioco con una scarpa così o con una diversa. Sì, ma già si potresti. Perché è troppo da soggetto e poi mi sono schienzato in monopatto. Non vorrei avere un po' di stabilità. Ah, comunque ho capito perché non la viene. Santi del cazzo. Ehm... Ehm... Sì? Andrea, ti ricordo di non fare tardi. Domani colonoscopia, ore 8. Non credo, grazie. 8, presto. Molto presto. Andiamo? Siamo pronti anche... Poi è anche pronta la stream di ciclaggio? Nasca? Nasca? Casca? Abilitata stream, pronto per comando O. Casca? Perfetto. Possiamo mandarlo subito? Belandi? Mandiamolo. Mandiamo. Bevi il Chianti? Andiamo. Ti ringraziamo, Mase. Grazie, Mase. E attivare... E anche Fred, che cazzo. Con questa sì. Porco Dio. Porco Lio. Comando O. Senza tiro. Tiri. Andiamo. Ecco. Ciao a tutti e buona serata. Guidate piano. Guido io, guido io. E ti dai, ti dai, ti dai, ti dai, ti dai. Mamma, ma deve essere volgare, Simona. Sto scrivendo. Attivare comando host Hank Full. Lala. Quante anni? Hank Full. Ma come regolite la c'è? È fatto, 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 fatto. Così. Voglio te, ancora una volta, mi manca st'amore, mi manca st'amore, mi manca te che. Voglio te, ma quando ricordo la mente. Quando ho le mie labbra baciava, su pullulecchia è sempre come unnamorava, ma sta lontana tutta così strana.